Prima l'incontro tra le parti, ossia tra il CDA della Fondazione Grassi di Viadana, che controlla la casa di riposo, e i familiari degli ospiti della struttura, poi la richiesta di proposte alternative rispetto agli aumenti importanti apportati nei mesi scorsi a seguito della grave crisi che ha colpito le RSA, impossibilitate a causa del Covid ad applicare il classico turnover dei letti. Dopo questi due tentativi il Comune di Viadana ha fatto un altro passo in avanti, ancora più concreto, come spiega il Sindaco Nicola Cavatorta. Abbiamo trovato la soluzione, a seguito dell'atto di indirizzo approvato all'unanimità nella giunta del 27 gennaio, abbiamo deciso di dare un aiuto concreto, straordinario, alla struttura dal punto di vista economico, essendo la struttura stessa in difficoltà in questo anno di Covid, difficoltà dovuta a maggiori spese e a minori entrate. D'altro canto c'è stato un impegno da parte del CDA, da parte del Presidente, di voler ridurre questi aumenti. Un aiuto dunque, non ancora quantificato nel dettaglio, che potrebbe chiudere o almeno mitigare una pagina calda della politica locale, anche se va detto che maggioranza e minoranza in questo senso sono andate abbastanza d'accordo. Peraltro l'aiuto economico dato dal Comune è importante anche per evitare che sia lo stesso ente a dover pagare, come spesso accade, andando in supporto a famiglie che non possono permettersi la retta. I sostanziosi rincari dagli 8 ai 15 euro al giorno e dai 240 ai 450 euro al mese dunque saranno rivisti dalla Presidente del CDA, Silvia Angelicchio, che ha ringraziato l'amministrazione per l'intervento, rimarcando come lente, per quanto autonomo, sia comunque espressione della comunità via danese.